Video velocissimo ragazzi, in risposta a molte domande che mi stanno arrivando tramite il canale youtube. Pier Giorgio, ho le foglie dei pomodori che mi stanno diventando nere, che cosa è successo? Aiutami! Allora, a parte che diventa difficile senza vedere la foglia dare una risposta, però a naso andiamo un po' a rispondere. La prima cosa che mi può venire in mente è che magari è arrivato il freddo, avete trapiantato le piantine un po' presto e il freddo può bruciare un po' le foglie, la vegetazione questa qua un po' più fresca, perché magari quando i primi di aprile faceva caldo, avete fatto come me, trapiantato in anticipo per avere i pomodori per primo e poi magari le temperature si sono abbassate, la notte è arrivata anche a 10 gradi e quindi le foglie possono essere bronzate, tutte bronzate, arricciate, un po' secche sui lati esterni, ecco quello può essere un ritorno di freddo. Un'altra causa per cui le foglie del pomodoro diventano nere è una carenza di un elemento nutritivo, la carenza di fosforo. Che succede? Che le foglie si imbarcano e diventano colore marroncino, sull'azzurro, imbarcano, vi faccio subito l'esempio, questa è la foglia del pomodoro, se la foglia del pomodoro la trovate a barchetta, quindi si arrotola in questo modo qua, ok? E dentro è diventata tutta marroncina e tendente anche ad una colorazione un po' sul blu astro, quella è una carenza di questo elemento nutritivo del fosforo. Che cosa possiamo fare di spettacoloso per recuperare questa carenza? Come possiamo dare in modo tranquillo e naturale fosforo alle piante? Una cosa semplicissima ragazzi, soffiate cenere sulla pianta, un soffietto, un mantice, quello che volete, una bella nebulizzata di cenere, la cenere contiene dal 2 al 5 per cento di fosforo, è una meraviglia. Potete anche darlo, se volete, nel terreno, lavorate poi un po' il terreno e lo prenderà anche per apparato radicale, ma io vi consiglio di darlo per via fogliare con i soffietti, perché il fosforo dato per via fogliare entra prima in circolazione nella linfa della pianta e poi la cenere distribuita così sulle piante da anche il calcio e da anche il potassio, elementi nutritivi e spettacolosi e poi tende a mantenere le foglie poco umide e quindi preserva anche le patologie fungine, vedete quante cose meravigliose fa la cenere. Il fosforo è importantissimo per la pianta del pomodoro perché siccome fa molta fioritura, se ci sono molti fiori, l'aiuterà a fare molta allegagione, avrete anche un bel raccolto copioso, bello, col potassio, poi pomodori grandi e rossi, uno spettacolo. Ci sono però anche le foglie che diventano marroni quando vengono attaccate dalle patologie fungine. Ne avevo una qua e ve la faccio vedere. Allora se avete una situazione come questa qua, allora qui la cosa inizia a diventare seria. Questa è un attacco di malattia fungina, allora che cosa possiamo fare quando vediamo attacchi di peronospora, cercospora, alternaria? Possiamo fare innanzitutto l'eliminazione delle foglie che toccano verso il terreno, perché queste che si ammalano sono sempre le prime nate, le prime che stanno verso il terreno, quindi eliminandolo e portando via le foglie colpite da queste patologie, dal terreno, le mettiamo da parte e poi le bruceremo quando sono secche, abbiamo fatto proprio un bel lavoretto. E poi possiamo fare subito un bel trattamento. Il trattamento che vi consiglio è sempre con una polvere di roccia, caolino, zeolite, ancora meglio, aggiungendoci poi il vostro prodotto antifungino. Va benissimo il rame, se non avete mai trattato. Se avete già fatto un trattamento a base di rame, allora non stiamo troppo a utilizzare il rame, potremmo spostarci sull'utilizzo del bicarbonato di potassio. Vi dico subito che non è risolutivo il bicarbonato di potassio contro la peronospora, è un antifungino a largo spettro, preserverà, quindi cerca di prevenire la patologia fungina, ma ricordiamoci che la peronospora è davvero una brutta bestia e quindi se avete la possibilità, se avete fatto un solo trattamento e avete le foglie macchiate di questa malattia, vi consiglio di fare subito un secondo trattamento a base di rame, magari utilizzate il rame metallo, il rame chelato, che sono rami meno pesanti e meno invasivi, rimangono meno nel terreno e hanno sempre un ottimo effetto di prevenzione. Ragazzi ho cercato di dare questa risposta velocissima, no? Sono passati già cinque minuti, chiudo qui il video, vi do un abbraccione a tutti quanti e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi ciao! 5 1 5 Be Grazie a tutti